Dopo lo stop dovuto alla pandemia, torna ad Arezzo il villaggio tirolese durante il Natale. Le date sono state fissate. L'appuntamento partirà il prossimo 20 di novembre fino al 26 di dicembre. In Piazza Grande, dunque, torneranno le casette di legno e due baite. L'evento, che ha caratterizzato i Natali pre-Covid, è dunque molto atteso dagli aretini che sperano anche nel decollo della città di Natale. Per il momento, dal sito della manifestazione, si svelano i primi dettagli. Le casette in legno saranno 32, ma non ci sarà la grande baita per evitare assembramenti. Torneranno comunque i giochi di luce e restano confermate una serie di iniziative collaterali, come la casa di Babbo Natale, ospitata presso il Palazzo di Fraternita, il Santa Claus più illuminato del mondo, confermato anche il Christmas Brick, il villaggio Lego di Natale che si terrà al Prato. Tutto il programma di questa edizione 2021 è comunque consultabile sul sito www.mercatodinatalearezzo.it.